21 delle 51 aree idonee per il deposito nazionale delle scorie radioattive si trovano in altrettanti comuni della Tuscia, nel nord del Lazio e gli abitanti del luogo non credono che questa sia una decisione giusta Noi siamo contrari per una serie di motivi il primo è rappresentato dal fatto che non accettiamo la metodologia che è stata utilizzata da Sogin per scegliere i siti il secondo motivo è rappresentato dal fatto che non è stato valutato il rischio sanitario data l'alta incidenza di cancro in questa provincia a terzo motivo non sono stati valutati i danni di natura economica Allora noi come sindaci della Tuscia crediamo e siamo convinti che la realizzazione del deposito delle scorie radioattive nella Tuscia sia completamente sbagliata e chiediamo pertanto un tavolo con il governo per far capire le nostre ragioni Oltre che per il turismo questo è un territorio importante per la produzione agroalimentare con la produzione di nocciole, di olio, di ortofrutta tutte attività che si sentono minacciate dal possibile arrivo nella zona che è anche a rischio sismico di 95.000 metri cubi di scorie che secondo molti qui rischiano di far calare sulla produzione una lunga notte Grazie Grazie Grazie